Musica Bella a tutti ragoni, qui è Nico Forza e siamo in un nuovo video Oggi sono particolarmente felice Ieri il Foggia ha fatto una vittoria incredibile Ha vinto 4-1 prima partita del campionato in casa Devo dire che ho visto questa partita purtroppo da casa Devo ammettere che è stata una partita che mi ha lasciato anche un po' senza parole Perché si è visto quel gioco, proprio il gioco tipico del periodo della Zemanlandia I passaggi di prima, tre tocchi e gol Cioè delle azioni spettacolari Certo possiamo dire che c'erano pure alcune piccolezze che si possono migliorare Ma siamo ancora a inizio campionato E secondo me se c'è da migliorare in una partita dove abbiamo vinto 4-1 Vuol dire che stiamo partendo molto bene E prevedo un futuro veramente bello per questo Foggia Anzi e spero anche ovviamente Spero magari di vedere la prossima partita che sarà ancora in casa di persona Perché come vi ho già detto nell'altro video Per me sarebbe un sogno vedere una partita del Foggia con il grande Zeman Con il gioco spettacolare di Zeman in casa E salutare tutti i miei amici tifosi delle trambe curve Sia Curva Nord e Curva Sud Perciò speriamo magari la prossima volta di riuscirci Inoltre spero di vedere lo stadio un po' più pieno Certo è ovvio che ci devono essere delle limitazioni per il Covid Però lo stadio Pino Zaccheria è bello proprio perché è pieno Con tutti i tifosi del Foggia Ovvio bisogna fare attenzione e bisogna farlo in sicurezza Però magari sperare di vederlo un po' più pieno sarebbe bello Ora ragazzi voglio dirvi anche come sto intendo di salute E la lotta continua Continuo a fare dei periodi a casa e dei periodi in ospedale Continuo quindi a fare un po' sotto e sopra Dovrò fare prossimamente un controllo Credo forse uno dei più importanti Che mi dirà molte cose su come proseguire Perciò spero bene per quel risultato Ovviamente ragazzi appena saprò qualcosa Voi sarete i primi a cui lo dirò ovviamente La lotta è dura e forse è ancora lunga Però come voi sapete io non mollo mai Ok ragazzi ora vi voglio anche un po' aggiornare Anche su Fantacalcio Youtube Italia Come sapete probabilmente è finita la seconda giornata Un po' di giorni fa del Fantacalcio E questo è il risultato della partita Da stavolta ero contro Gabbo Ovviamente metto sempre i link in descrizione Sia del mio compagno di squadra Cioè Simone Lemma E sia anche dell'avversario Quindi in questo caso Gabbo E se volete vedere la mia rosa Vi lascio anche il video in descrizione Dove vi faccio vedere tutta la mia rosa E inoltre Dopo vi aggiornerò alla fine del video Che vi dirò un'altra cosa su Fantacalcio Alla fine del video ecco Per ora pensiamo alla giornata Come potete vedere è finito 2-2 Per un punto e mezzo se non erro ho perso Infatti diciamo che mi ha penalizzato un po' Sia il portiere E sia forse ho sbagliato anche un po' il modulo Per ora vediamo nel dettaglio Allora Andanovic ha subito un gol Quindi alla fine ha preso 4 di valutazione Non me l'aspettavo che potesse Prendere una valutazione così bassa Però fa niente Può capitare qualche volta di avere una giornata no La difesa sono ancora molto soddisfatto C'è stata una buona media L'assist di Mario Ruiz Molto importante Che così pure se ha preso cartellino giallo Comunque è andato a prendere il 6 Karstrup e Bastoni Che hanno preso 6 e mezzo Ottima valutazione Centrocampo soddisfatto Anche se forse avrei dovuto cambiare modulo In questa partita Non ci ho pensato Sarebbe stato meglio un 4-3-3 Così avrei avuto 4 difensori Per il modificatore difesa 3 centrocampisti In questo caso avrei dovuto mettere Filippo Anderson Chiesa e Locatelli E in attacco avrei potuto mettere Abram, Dzeko e Pussetto Così avrei vinto Avendo avuto il gol di Pussetto Però è facile parlare Dopo aver visto i risultati Però devo ammettere Che comunque sono molto soddisfatto Della rosa mia e di Simone e Emma Che a me continua a stupire Quindi finora Io e Simone stiamo andando bene Pure Gabbo Ha avuto Dei buoni risultati Lui ha fatto un 3-4-3 In porta Ha avuto più fortuna di me Ha preso 5 e mezzo Invece è di 4 I tre difensori hanno preso Anche a lui delle buone valutazioni Un centrocampo Cara fine Ci può stare Ha preso Ha fatto gol con Fabian Ruiz Non so se ho pronunciato malissimo Però fa niente Pure lui ha avuto un centrocampista Che ha preso 5 e mezzo Nel caso mio Il mio è stato Damsgaard Nel suo caso è stato Barak In attacco Martínez ha fatto gol Lonzano L'ha penalizzato un po' Prendendo 5 Boga ha preso 6 Quindi è stata una partita Molto combattuta E devo ammettere Che comunque Alla fine il pareggio Ci può stare Anche se Un po' ti fa arrabbiare di più Se per un punto e mezzo Potevi vincere Però fa niente Inoltre ragazzi Prima di concludere il video Vi volevo dire Che questo mercoledì Cioè l'8 Ci sarà l'asta di riparazione Del fantacalcio Youtube Italia Ovviamente Sarà sul canale di Fantagol Come al solito Vi aggiornerò Su Instagram Pure per l'orario Oppure ve lo lascerò già Nei commenti Se lo saprò prima E ragazzi Il video termina qui Sono contento comunque Di continuare a registrare Questi video Per far sapere a voi Come sta andando Sia a me Cosa ne penso Del mio grande foggia E pure Un po' come sta andando Col fantacalcio Youtube Italia Ovviamente Vi lascio in descrizione Il canale di Simone Lemma Che è il mio compagno di squadra Il canale di Gabbo E anche Il video Di che presento La squadra mia E di Simone Un grande saluto Da Nico Forza Ciao a tutti 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 Ciao a tutti